Sono Assunta Doronzo, sono la direttrice della scuola del Casaro del Crea. Noi siamo una pubblica amministrazione, un ente di ricerca che da due anni sta sperimentando un nuovo modo di ricerca, un nuovo modo di lavoro per riprendere parte della nostra tradizione, della nostra artigianalità e metterla insieme all'innovazione. I nostri prodotti vanno valorizzati, vanno conosciuti e non dobbiamo perdere le nostre radici. Quindi la scuola ci aiuta a recuperare le nostre conoscenze, le nostre capacità e a saperle mettere in atto nel futuro, anche nelle aziende. Noi siamo al secondo corso della scuola del Casaro ed abbiamo lavorato insieme ad aziende zootecniche, dove ragazzi sotto i 40 anni hanno iniziato a lavorare nel rispetto delle procedure, dell'igiene, del benessere e noi abbiamo sui nostri tavoli, sul nostro cibo, prodotti di alta qualità. Speriamo oggi, con la nostra dimostrazione, di attirare anche nuovi ragazzi che vogliono lavorare. Il nostro intento è mettere sul territorio nuovi catari in grado di produrre prodotti di alta qualità in modo da poterli esportare anche fuori dal nostro territorio. Abbiamo tutte le capacità e tutte le conoscenze per poterlo fare.